Covid-19, in Sicilia 573 nuovi positivi, 17 decessi, 1.712 guariti, a Siracusa 52 casi. Nella regione nelle ultime 24 ore sono registrati meno ricoveri e malati, facendo notare 573 nuovi positivi su 22.269 tamponi processati, con una incidenza di quasi il 2,6%, il leggero calo rispetto a ieri. La rete dei contagi annota tra le province Catania 169, Palermo 140, Messina 65, Siracusa 52, Trapani 25, Caltanissetta 43, Ragusa 36, Agrigento 32 e Enna 11. Decessi nell'isola sono stati 17 e portano in totale a 5.650. Il numero degli attuali positivi è 18.009, con una diminuzione di 1.156 casi. I guariti oggi sono 1.712, negli ospedali siciliani ricoverati sono 961, 46 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 124 in meno rispetto a ieri. Ed ecco spuntare all'orizzonte la zona gialla, si aspetta solo la firma dell'ordinanza da parte del ministro della salute Roberto Speranza e successivamente quella del presidente della regione Nello Musmeci. Da lunedì dunque via anche in Sicilia alle riaperture di bar e ristoranti a pranzo e a cena all'aperto. Dal 24 maggio coprifuoco spostato dalle 22 alle 23 come nel resto d'Italia. Il report della cabina di regia dell'Istituto Superiore della Sanità registra per l'isola un rischio basso e un indice di contagi RT inferiore a 1 per la seconda settimana consecutiva. Il valore RT puntuale è pari a 0,83 con intervallo inferiore a 0,80 e superiore a 0,86 e in diminuzione rispetto alla settimana precedente, che era 0,89, parametri giudicati compatibili con uno scenario di tipo 1, ovvero con la zona gialla. Nella report che si riferisce alla settimana 3-9 maggio, i nuovi casi di Covid registrati sono stati 5.022, ovvero il 17,4% e meno della settimana precedente. I nuovi focolai sono in diminuzione, 754, e i casi non riconducibili a catene di contagio, note 1784. Anche l'indice di occupazione dei posti letto da parte dei pazienti positivi ha diminuito, l'occupazione è al 19%, nei reparti ordinari al 17% nelle terapie intensive.